Se ti dico sport for good cosa ti evoca? Io penso che comunque lo sport è un insegnamento di vita che veramente ti dà molto. Io ho imparato molto diciamo anche a rendermi alle prime difficoltà, ho imparato a perdere. Sei curiosa nella vita? Sì molto. E allora andiamo in fondazione per scoprire quello che è l'Aureus. L'Aureus è una fondazione internazionale che è nata 12 anni fa in Sudafrica grazie ad un personaggio stupendo Nelson Mandela. Mercedes è uno dei nostri grandi sostenitori ma non soltanto a livello economico ma c'è una condivisione anche di valori. Il sport è un strumento e il media per aiutare i bambini a migliorare le condizioni di vita. E per questo motivo abbiamo anche la fiducia che supportiamo diversi progetti in Italia. Siamo molto passionati e crediamo che questo è molto importante. E per questo siamo pronti di essere un membro di l'Aureus e vorremmo che ancora più italiani ci sottolineano questa grande idea. Grazie a tutti! Grazie a tutti